Novità interessante per questo canale YouTube. Sono arrivati gli abbonamenti, una funzione che YouTube mette a disposizione da un po' di tempo per i creator per supportarli nel loro lavoro di creazione di contenuti. E ho voluto anch'io sperimentare questa possibilità proprio per dare qualcosa in più, dare uno strumento a tutti quelli che mi dicono grazie, ho risolto questo problema, guardando un video e quindi dare la possibilità anche di offrirmi un caffè, in questo caso a distanza con l'abbonamento proprio per sostenere il lavoro di questo canale. Ti dico già, è importantissimo che non cambierà nulla per quanto riguarda la pubblicazione dei normali contenuti. Ci saranno sempre i contenuti con le solite uscite e tutto rimane a disposizione di tutti. L'abbonamento è semplicemente un modo proprio per offrire appunto, come dicevo, un caffè per avere un feedback maggiore, ma ha anche dei vantaggi interessanti. E infatti ho voluto proprio partire da qui, dall'offrire un vantaggio soprattutto nella risposta prioritaria ai commenti, nella richiesta di risposta per richiesta di informazioni e altro ancora. Perché ormai con quasi 300 video attivi e migliaia di visualizzazioni, decine di migliaia di visualizzazioni al mese, sono centinaia i commenti che arrivano a settimana. Mi fa davvero tanto piacere, ti invito sempre a commentare e lasciare mi piace e altro e cerco di rispondere a tutti, soprattutto quando ci sono delle richieste di approfondimento dei temi specifici, visto che siamo in un canale di tutorial e quindi parliamo proprio di come fare determinate cose. Ma è chiaro che ci vorrebbe una vita in più per rispondere a tutti e per poter supportare tutti quanti. Per cui ho deciso con l'abbonamento di dare comunque una lista di priorità, una preferenza, un modo quasi come dire ok, io ti do una mano, cerco di metterci del mio tempo gratuitamente per darvi una mano, offrmi un caffè e siamo a posto. E infatti nei livelli che trovi al momento, ci sono due livelli disponibili, nei livelli di abbonamento presenti trovi il livello base che è proprio a poco più del costo di un caffè, almeno dalle mie parti e quindi è un prezzo impostabile da YouTube a 1,99€ che ti permette però di supportare il canale, di sostenermi, di ringraziarmi se ti è stato utile il contenuto che ho prodotto e di continuare così a darmi la possibilità di creare dei video. E in più c'è il livello appena successivo con un euretto in più c'è invece la colazione invece che il caffè se comunque vuoi fare qualcosina in più e questo ha dei vantaggi aggiuntivi come la possibilità di avere dei sondaggi personalizzati per gli abbonati con questa tipologia per decidere insieme il contenuto dei prossimi video e così altro ancora. Puoi vedere nella casella abbonamenti le diverse possibilità. Sarà creata poi in futuro anche una terza possibilità ma riservata a chi è proprio interessato al digital marketing per le piccole imprese in cui metterò a disposizione dei contenuti esclusivi non creati apposta ma magari presi dalle mie conferenze in aula o dai tanti corsi che ho fatto in varie situazioni e che possono essere replicati e portati in questo contesto proprio per dare del materiale in più, del valore in più importantissimo, dei mini corsi in pratica creati apposta per questa tipologia. Questo sarà probabilmente nei prossimi mesi o a partire dall'anno prossimo comunque intanto ci sono queste due modalità. Per cui se ritieni che il canale ti è stato utile o qualsiasi video ti ha risolto un problema l'abbonamento è a disposizione. Clicca, fallo e vedrai che mi aiuterai a supportare sempre di più il lavoro di questo canale. Io ti ringrazio in ogni caso, comunque l'attività del canale va avanti sempre spedita allo stesso modo e anzi continueremo a crescere sempre più insieme su questa piattaforma. Un saluto da Matteo e a presto. Ciao!